Attenzione! 3, 2, 1, parte la canzone! Forza, forza, forza! Vediamo che si prenota! Oggi abbiamo i nomini che si sono prenotati! Vieni qua, vieni qua, dite al microfono! Dite al microfono! Dite al microfono, vieni qua! Chihuahua! Chihuahua, era Chihuahua! Ha sbagliato, ragazzi, ha sbagliato! Guardate la pelle da questa qua! Allora, perlottiamo il punto alle donne! Allora, per il numero delle donne! Allora, gente, siamo 1 a 0 per le donne! Adesso voglio sentire l'urno della difficoltà! Allora, andiamo avanti! Andiamo avanti! 3, 2, 1, via! Oggi il passato non contà! Oggi il pubblico è così! Abbiamo la prenotazione delle donne! Eravamo 1 a 0 per le donne! Adesso, risposta! Meravigliosa di Emma! Meravigliosa di Emma! Allora, stanno volendo la meravigliosa di Emma! Ok, gente! 2 a 0! Tende! Doni! Di nuovo, ok! Ragazzi, non è detta l'ultima parola! Possiamo recuperare! Ok! Ok! Voglio sentire l'unico che è una rivincita! Via! Ah! Ah! Ci siete! Ok! Ci sono concentrati! Siamo concentrati! Ok, gente! 3, 2, 1, via! Abbiamo una prenotazione nuova! Liga a bua, se non è! Vabbè, liga a bua non basta! Vogliamo il titolo della cazzola! Tito lo... Tito lo passo! Tito lo passo! Allora, gente, ha passato il titolo! Allora, 3 a 0! Piccola! Ok! Mani su fisica! Allora, guarda il titolo della cazzola, Tana! Buongiorno a mezzanio! Buongiorno a mezzanio! Ok! Allora, vittoria per le... Torni! Allora, ragazzi, adesso si ricomincia! Speriamo le luci, grazie! Speriamo le luci, grazie!